Quando noi sfruttiamo il creato, distruggiamo il segno di amore di Dio. Distruggere il creato è dire a Dio, non mi piace, questo non è buono. E cosa piace a te? Piacere a me stesso. Ecco il peccato. Avete visto? La custodia del creato è proprio la custodia del dono di Dio. E anche dire a Dio, grazie, io sono il padrone del creato, ma per farlo avanti io non distruggerò mai il tuo dono. E questo deve essere l'atteggiamento nostro in confronto al creato. Custodirlo, perché se noi distruggiamo il creato, il creato ci distruggerà. Così Papa Francesco all'udienza generale di questa mattina in piazza San Pietro. Davanti a quasi 80.000 fedeli da tutto il mondo, il Papa ha proseguito la serie di catechesi sui doni dello Spirito Santo, parlando di quello della scienza. Un dono speciale ha spiegato che non si limita alla conoscenza umana, ma ci porta a cogliere attraverso il creato la grandezza e l'amore di Dio e la sua relazione profonda con ogni creatura. Agli occhi di Dio ha aggiunto, noi siamo la cosa più bella, più grande, più buona della creazione, più degli angeli che sono sotto di noi. Il dono della scienza, ha concluso Papa Francesco, ci aiuta anche a non cadere in alcuni atteggiamenti eccessivi o sbagliati, come il considerarci padroni del creato. Non è una proprietà di cui possiamo spadroneggiare a nostro piacimento, ma un dono che Dio ci ha dato affinché ne abbiamo cura e lo utilizziamo a beneficio di tutti, sempre con grande rispetto e gratitudine.